buongiorno da gabriele product expert mercedes benz merbag in questo video andremo a vedere come parcheggia in automatico nuova classe e andremo quindi ad eseguire in modo completamente autonomo il parcheggio che vedete davanti a voi della vettura classe e eccoci a bordo della vettura una volta individuato il parcheggio dove volete andare a posizionare l'auto non dovete far altro che attivare questo pulsantino sulla console centrale del parcheggio in questo modo si attiveranno i sensori di riconoscimento dello stesso andiamo quindi a oltrepassare lo spazio in cui la vettura si andrà a posizionare fino a quando nella console centrale non vi darà l'icona di parcheggio trovato una volta che sentite segnal acquistico vi fermate e posizionate il cambio sulla retromarcia prima di rilasciare il pedale del freno cliccate il pulsantino sulla razza del volante una sola volta per impostare l'automatismo adesso lasciate direttamente i piedi e le mani dal volante e la vettura andrà automaticamente a posizionarsi nell'apposito spazio eseguirà tutta la manovra fino al posizionamento finale completamente in automatico come potete vedere sta facendo tutto l'auto una volta terminata la manovra di parcheggio l'auto eseguirà questo suono andiamo a vedere adesso come la parcheggiata eccola qui vi farò vedere adesso un'altra caratteristica ovvero l'uscita dal parcheggio guidata una volta rientrati in vettura prima di uscire dal parcheggio ricliccate il pulsantino del parking in modo da attivare il sistema a questo punto mettete pure la drive e comparirà la visualizzazione di uscire dal parcheggio cliccate quindi il tastino sulla razza del volante e in automatico la vettura uscirà dal parcheggio lasciando completamente il tutto una volta che la vettura sarà uscita dal parcheggio ci sarà un segnale acustico in quanto l'auto dovrà essere presa direttamente in possesso dal guidatore eccolo qui e l'auto adesso ritorna completamente in mano al guidatore abbiamo quindi visto il funzionamento del parcheggio assistito di classe e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao